Che bello! Ma guardate, ma guardate! Dove sono? Ma guardate che bello! Il treno che se ne va! E' il canto sonoro degli uccellini qui ad abitare in un grotto. E' qualcosa di eccezionale! Il treno che va dove? Ma dove sono? Me lo dite voi, per favore! Esattamente anche il nome dei crotti! Io vi annuncio che sono in un cielo della provincia lombarda! Vi dico ancora di più di Sondrio! Ma ditemelo voi! Ragazzo che abiti in Valtellena a Torchi Bianchi! Dimelo tu! Dove io mi trovo tuttora? In Val Vigezzo? Ma guardate bene dove sono! Ma guardate bene in provincia di Sondrio! Non può essere vicino a Domodossola! Ma dov'è quell'uccellino così tanto bello che canta? Sembra essere in una cosa fiabbesca qua! La favola mia! Racconto ogni giorno la favola mia! E la racconto ogni giorno e mi sembra sempre più bella! La favola diventa poi realtà! Realtà umana dove il vivere non è più un vivere nel ghetto dei miei perché! Ma è un vivere in un'essenza pura di spirito umano! Dove l'umanità si adagia, si atterra su questo sentiero percorribile che va verso la valle! Il mio cammino continua da girovaco, da viandante! E io guardo intorno questo nu cielo incerto che anche qua gli uccellini cantano! Godono di una beatitudine felicità di esistere in questo mondo, di scoprire le cose più particolari! Dove sono? Ascoltate, youtubisti, il primo che mi scrive il commento sarà un eroe, un eroe giudicato da Aldo Maspero!